Bella a tutti i compagni e benvenuti nell'anteprima della Season 20 di Apex Legends Breakout. Innanzitutto ci tengo a ringraziare Electronic Arts Creator Network per avermi dato l'opportunità di partecipare a questa anteprima. Le premesse di questa Season sono davvero altissime perché porta con sé tantissime novità, dalle nuove passive uniche delle leggende, il rework delle armature, del crafting, delle ranked, i 120 fps per console, fino a festeggiare il quinto anniversario di Apex Legends. Ma andiamo con ordine. Con la Season 20 avremo una novità che cambierà secondo me le sorti di ogni partita, denominato Legends Upgrade, ovvero l'upgrade delle leggende, un sistema di progressione in gioco dove otterremo la possibilità di scegliere due passive uniche per la vostra leggenda ad ogni livello di corazza blu e viola. Questo comporta con sé tante novità nel gameplay, perché ogni partita cambierà in base le scelte delle vostre passive delle leggende, combinate con le passive del resto del vostro team, scelte che possono essere improntate ad un gameplay più aggressivo o difensivo, ad esempio la possibilità di reinemare il vostro compagno di squadra con 40 HP o ricaricare il vostro shotgun all'atterramento di un nemico. E con questo discorso delle passive mi collego direttamente alla seconda novità importantissima di questa Season 20, ovvero il rework delle armature. Innanzitutto a partire dal lancio di questa Season 20, tutte le corazze evo sparse in giro per la mappa verranno completamente tolte. E questa novità non solo toglie un po' di randomicità nel gameplay di gioco, perché quante volte vi sarà capitato che appena atterrati trovate un nemico magari già con la corazza viola, ma soprattutto serve ad invogliare i giocatori a giocare un po' più aggressivi per livellare le vostre corazze evo e di conseguenza sbloccare le due nuove passive. E la domanda sorge spontanea, come sono state le workate questo corazze evo? Innanzitutto ognuno di noi parte con una corazza bianca. Quello che cambierà sostanzialmente è il come far salire di livello la vostra corazza, perché se prima si basava sull'effettuare dei danni, adesso oltre a salire tramite i danni, riceverete punti extra facendo determinate azioni. Ad esempio le kill vi daranno 100 punti, gli assist ne daranno 75, o come ad esempio utilizzare le passive delle vostre classi, come lo scanner per scoprire dove si chiuderà la prossima zona. E tutto questo implica anche una modifica ai punti che avrete bisogno per livellare la vostra corazza evo. Ad esempio per passare dalla corazza bianca a quella blu dovrete ottenere un totale di 600 punti, e ovviamente ad ogni livello aumenteranno i punti necessari. Ma per agevolare il vostro compito di aumentare di livello delle vostre corazze, in giro per la mappa ci saranno delle stazioni upgrade che vi faranno guadagnare punti per le vostre corazze. E nei care package ci sarà un pick up chiamato evo upgrade, che anche questo vi aumenterà i punti della vostra corazza a voi e al resto della vostra squadra. E prima che vi allarmate, perché è una domanda che mi sono fatto anche io appena stavo sentendo queste cose, lo swap armor rimarrà. Semplicemente è stata reworkata anche questa meccanica. Al posto di raccogliere la corazza della box avversaria, troverai uno shield core, o detta in italiano nucleo dello scudo. Una volta raccolto in base al colore che identificerà il livello di corazza del vostro avversario, questo ricaricherà la vostra di corazza. Ma attenzione, se lo shield core raccolto è più alto del vostro livello di corazza, ad esempio voi avete la corazza blu e ne raccogliete una viola, se questo appunto supera il livello della vostra corazza, vi ricaricherà istantaneamente la vostra corazza blu e vi darà un'attacca di scudo extra, per diciamo simulare di avere una corazza viola, ma quest'ultima attacca non sarà infinita, di fatti decaderà nel tempo. Se invece viceversa un nemico ha una corazza inferiore alla vostra, semplicemente vi ricaricherà il corrispondente della corazza del vostro nemico, per farvi capire se voi avete una corazza blu e raccogliete una corazza bianca, vi darà solamente due tacche di corazza lasciando la terza vuota. Già solo con questi grandi cambiamenti, sono sicuro che le prime partite saranno abbastanza spiazzanti perché sarà tutto diverso. È giusto questione di abituarsi alle novità. E parlando di un'ulteriore novità, in questa season 20 ci sarà anche un rework del crafting, ovvero innanzitutto vengono tolti i materiali per il crafting. Il crafter d'ora in poi sarà gratuito e sarà possibile utilizzarlo una sola volta per persona. Dal crafter verranno tolti armi e gadget da poter creare, difatti avrete a disposizione solamente batterie, medikit, munizioni e banner compagni. Precisando una cosa, i banner dei compagni rimangono rilegate alla classe supporto, ovvero senza una leggenda supporto nel vostro team non vi sarà possibile craftare i banner dei vostri compagni. E questi cambiamenti per me sono davvero eccezionali, non solo perché togliendo le corazze avremo già più loot, ma limita anche il fatto di potersi craftare 20 batteri a partita, rendendo le stazioni di crafting un bene di utilizzo in casi estremi. Oltre a tutte queste modifiche per quanto riguarda il Battle Royale, abbiamo una novità secondo me davvero molto carina, ovvero una nuova mappa interamente dedicata proprio alla modalità mixtape chiamata Thunderdome. Mappa che sinceramente dalle prime immagini mi sembra davvero molto bella da giocare, e che a me personalmente non so perché mi ha riportato subito alla mente la modalità Arena, una modalità che sinceramente a me piaceva tantissimo e spero che un giorno la rimetteranno. E arriviamo all'ennesimo, tanto atteso, rework delle Ranked, che questa volta devo dire promettono davvero tanto ma tanto bene. Innanzitutto ci sarà un reset totale delle Ranked, dunque si riparte da zero, e hanno anche cambiato i punti da LP a RP, ovvero Ranked Points. La cosa che salta subito all'occhio di queste nuove Ranked sono la maggiore importanza alle kill, ovvero adesso ogni kill varrà dei punti. Più salirete di posizionamento, maggiori punti otterrete all'uccisione. Otterrete punti bonus se eliminerete un player di Rank più alto del vostro, ovvero adesso se voi atterrerete e farete qualche uccisione, in base alle kill potreste addirittura guadagnare abbastanza punti da non andare in perdita nel vostro Rank. Inoltre il piazzamento all'interno delle partite avrà anche meno importanza, perché di fatti hanno anche bilanciato gli RP che ottenete anche al di sotto del decimo posto. Questo anche per incentivare insieme a tutto il resto del discorso armature eccetera eccetera, un gameplay più aggressivo da parte dei giocatori, invogliando i giocatori ad affrontare i nemici piuttosto di aver paura di perdere punti. Inoltre per premiare i giocatori che avranno una maggiore costanza nel portare a casa degli ultimi risultati come ad esempio del quinto posto in su, è stato inserito un bonus chiamato appunto Top 5 Streak, dove se mantenete una costanza sopra il piazzamento del quinto posto otterrete dei bonus accumulabili fino a 5 volte. Una volta raggiunto il massimo di 5 su 5 oppure una volta persa la partita prima del quinto posto, questa streak si reset da zero. Inoltre una novità che a me personalmente piace tantissimo, non ci saranno più le 10 ranked di posizionamento quando inizierete una season, ma soprattutto non ci saranno più le promo per salire di Elo, ovvero da silver a oro. Addio quelle maledette sfide! E tornerà lo split di mid-season, ovvero il reset delle ranked a metà season. E la rotazione mappe per il lancio di questa season saranno Stormpoint, Olympus e World's Edge, tre mappe che io adoro in ranked. E anche per quanto riguarda il matchmaking ci saranno delle modifiche all'interno delle ranked, perché a detta di respawn sarà basato sui punti del giocatore delle ranked e non più sul proprio skill base matchmaking. E questa modifica, per quanto aspetto di vedere esattamente come sarà il matchmaking, la trovo interessante perché potrebbe mescolare le carte in tavola, perché ci saranno le partite dove troverete sia gente forte, sia gente più passiva che potrebbe comunque risultare pericolosa. In generale appunto, come ripetuto più volte, questa season vuole spingere i giocatori appunto a sparare in un FPS. E anche qui, per chi se lo chiedesse, tranquilli, rimane la possibilità di giocare in trio con qualsiasi rank. Semplicemente il matchmaking prende in considerazione il rank più alto, come succede anche adesso. Dunque, tranquilli, basta fare trio, potete giocare con chiunque. Inoltre, altra cosa importante che mi stavo dimenticando, ovvero per partecipare alle classificate adesso basterà essere a livello 20. E parliamo dunque degli eventi di questa season 20. Innanzitutto arriverà una modalità a tempo limitato chiamata Strayck Shot, una sorta di mini Battle Royale formata da 30 giocatori, giocate in delle zone di mappe base ristrette. Non ci sarà il Jump Master, dunque dropperete i random in giro per la mappa, con delle Sift Zone più veloci, dunque una durata di partita ridotta rispetto alle partite normali del Battle Royale, con la differenza che troverete armi a terra già accessoriate, di livello bianco, blu, viola e oro. E con una novità che spero venga introdotta anche nel resto del gioco, ovvero, alla morte del vostro team, nella schermata di spettatore, potrete fare subito il matchmaking per rientrare in una nuova partita, senza dunque dover fare abbandono, andare nel menu e cliccare Start di nuovo. E come di consueto arriveranno oggetti cosmetici a tempo limitato e collezionandoli tutti otterrete 150 frammenti di cimelio, per sbloccare appunto il vostro cimelio preferito. Inoltre, come detto, questo sarà il quinto anniversario per Apex Legends, e per festeggiare il respawn mentre la nostra disposizione è delle challenge. Cosa dovremmo fare? Semplice. Prima di tutto, sempre per festeggiare appunto questo quinto anniversario, vi sarà possibile sbloccare un totale di 6 leggende gratuitamente, una ogni due settimane, tramite delle sfide, un po' come è stato per il rework di Revenant. Completando tutte le sfide delle 6 leggende, otterrete la skill leggendare della Vrate, e tranquilli, da quanto si è capito, tutte le sfide rimarranno aperte fino alla fine della season. La seconda challenge sarà quella di arrivare fino al livello 60 del Battle Pass e sbloccare appunto di conseguenza tutti i 6 banner. Arrivati appunto al livello 60 e ottenuti tutti questi banner, completerete anche la seconda challenge e otterrete così dunque il banner di Vrate. Per completare la terza e ultima challenge, i ragazzi di respawn vi metteranno a disposizione dei regali che semplicemente dovrete donare ai vostri amici. Anche questi gift, uno ogni due settimane, e conterranno skin e sticker. E una volta completata anche questa challenge, otterrete appunto i tracker speciali della skin di Vrate e lo sticker esclusivo. E una volta completate tutte queste 3 challenge, otterrete una skill leggendaria reattiva per il Flatline. E devo dire, sia la skin di Vrate sia la skin di Flatline sono davvero molto molto belle. Ovviamente con l'uscita di questa nuova season 20, arriverà un nuovo Battle Pass, di cui magari ve ne parlerò in un altro video. E tutta una modifica di reskin di Balloon, Ban, eccetera, a tema di questa nuova season. Partendo proprio dalla schermata principale. Detto questo, ragazzuoli, questo video anteprima della season 20 Breakout di Apex Legends finisce qua. Spero tanto che vi sia piaciuto e soprattutto che l'abbiate trovato utile. In tal caso fatemelo sapere con un bel mi piace ed un commento dicendomi voi cosa ne pensate di tutti questi cambiamenti che avverranno. Io personalmente sono contentissimo e non vedo l'ora di giocare a queste novità, perché davvero sembra un cambiamento importante per Apex Legends. Iscrivete al canale se ancora non siete passate da tutti i miei social che trovate qui sotto in descrizione, come Discord, Telegram, TikTok e Instagram. Come troverete anche il mio canale Viola dove mi potete trovare live da lunedì a venerdì tutte le sere, compreso questa sera. Mi raccomando, vi aspetto. Io vi ringrazio per avermi seguito e ringrazio nuovamente Electronic Arts Creator Network per l'opportunità e noi ci vediamo con un prossimo video sempre by Bad Company Italy! Ciao a tutti!